La disponibilità della porta aerei Garibaldi nella banchina turpediniera in centro città, quale attrattore turistico straordinario e unico da destinare a fini museali, luogo di eventi e deliporto e al centro di una missiva indirizzata al Ministero della Difesa, allo Stato Maggiore della Marina Militare e al Comando Marittimo Sud da parte del consigliere comunale Luigi Abate, affinché l'unità navale non cessi il suo rapporto con la città bimare una volta messa in disarmo, ma al contrario possa addirittura rappresentare un volano economico. Far sì che innanzitutto vi sia una prospettiva turistica e di crescita socio-economica del territorio eccezionale attraverso appunto la nascita di questa nave museo. Tutta la città dovrebbe intervenire e far sì che Taranto possa avere un manufatto che li rappresenti degnamente in centro città. Per Abate i costi gestionali e di manutenzione sarebbero coperti da ticket d'ingresso per visite guidate e canone di locazione temporanea per eventi pubblici e privati. Da qui la richiesta al sindaco Rinaldo Melucci di istituire un tavolo tecnico-economico che possa vagliare tutte le ipotesi utili al fine per evitare che avvenga quanto accaduto alla nave Vittorio Veneto, partita per la Turchia per essere demolita.